Martedì 2 aprile alle ore 18 andrà in scena la prima lezione di Chips Compass che potrebbe rispondere a moltissime delle domande che ti stai facendo in questo momento sui tornei di poker o almeno risponde a moltissime delle domande che ogni settimana ricevo da appassionati che si iscrivono ai tornei, li giocano con magari anche un tanto sforzo perché sai la sera stanco, fai le ore piccole e poi arrivi lì ad essere nelle zone calde insomma quando ci sono poi le fasi che contano però sei corto, però un flip perso ti rovina tutto e torni a casa con un pugno di mosche, insomma sembra sempre in salida la strada per arrivare in fondo a questi benedetti tornei e già solo nella prima lezione di Chips Compass noi andremo a rispondere a un sacco di dubbi andremo proprio a fare chiarezza perché si intitola così perché non vinci nei tornei, perché non vinci nei tornei di poker ed è il punto di partenza su cui noi mettiamo delle basi per essere molto chiari, molto onesti e iniziare a capire cosa serve per costruire questo benedetto Chips Compass questa bussola delle Chips che ti guida attraverso scelte corrette che ti portano verso gli obiettivi grossi nei tornei e infatti così inizierà la seconda lezione, quella sulla mappa del tesoro la mappa che ci guida non solo alle Chips nei tornei ma a quella che è l'economia di un torneo cioè orientiamo le nostre azioni verso dove ci interessa andare che indovina dov'è? nei tavoli finali tendenzialmente verso la vittoria finale di questi tornei e arrivarci bene evitando trappole per principianti, passami l'espressione come quella di accumulare stacchi importanti nelle fasi iniziali che non servono a niente e incentivando le cose che veramente contano come quelle che vedremo nella terza lezione che sarà la lezione più importante a livello operativo di tutto il corso perché ti andrò a mostrare le tabelle chiave e i principi alla base, i principi importanti del gioco con Poké Chips attraverso già solo queste prime tre lezioni abbiamo stravolto quella che è l'impostazione classica del gioco nei tornei di tantissime persone che vedi in giro, che vedi nei circoli e che magari anche tu oggi hai quando affronti un torneo di poker impostazione che viene completata con la quarta lezione della prima settimana quella di venerdì che si intitola Che destino ha la tua mano andremo a capire come ragionare dentro una mano e come ragionare con una visione un po' diversa che è quella di capire le caratteristiche della mano che hai come si muove dentro la mano che stai giocando cosa vuole ricercare, quali sono le opportunità uniremo i puntini quindi prime quattro lezioni perché non vince nei tornei, la mappa del tesoro le tabelle fondamentali del gioco short stack saranno 12 fondamentali più 4 o 5 su cui andremo a fare dei ragionamenti molto interessanti e poi la quarta lezione Che destino ha la tua mano questa è solo la prima settimana Chips Compass dura due settimane da 2 aprile fino al 15 aprile circa saranno 8 lezioni in diretta e potrai seguire le registrazioni per tutto il periodo in cui questo corso è attivo ma quindi quale sarà la seconda settimana di lavoro che andremo a fare? te lo dico subito, sono altre 4 lezioni e si inizia dopo che abbiamo messo in ordine tutti questi pezzi di come stare dentro la mano, dentro il torneo e iniziamo a ragionare con un respiro più ampio cioè guardando all'ecosistema dei tornei e cercando di capire come distruggere ogni singolo livello dai tornei più bassi che possono essere i micro stakes o i tornei nei circoli passando per ogni ingradino fino a capire quale livello serve allenare per stare agli high stakes ai livelli più alti dove molte persone spesso magari si fiondano senza capire bene con quali competenze serve stare lì lo vedremo nella lezione di lunedì 8 che ho intenzione di far saltare perché ho intenzione di essere al day 3 del battle ma la recupereremo se sarò al day 3 del battle avremo modo di recuperare questa lezione tanto è programmata per lunedì martedì invece non ci sarà lezione ci saranno le ultime lezioni mercoledì giovedì e venerdì con un trittico conclusivo che andrà a chiudere il cerchio che abbiamo iniziato con chips compass con la prima settimana chips compass le ultime tre lezioni riguardano il primo è psicopoker cioè come il tuo cervello ti frega quando giochi cosa c'è nella testa di un appassionato perché a differenza di un professionista un appassionato ha un confronto con il poker un'esperienza emotiva, psicologica che è nettamente diversa e che finché non la capiamo ci frega se la capiamo abbiamo degli strumenti per arginarne i problemi e magari ottimizzare le nostre opportunità penultima lezione essere o non essere un banco di amletiana ispirazione molte persone giocano non rendendosi conto di ciò che lasciano per strada voglio fartene rendere conto vedendo il gioco reale mani pratiche affrontate da tornei di persone senza esperienza e ti faccio vedere esattamente dove in modo sistematico lasciamo chips e opportunità per strada e come cambia quando queste opportunità iniziano a coglierle perché? perché l'ultima lezione che concluderà questo ciclo di chips compass l'ho intitolata il killer della varianza il vero killer della varianza sottotitolo come fare rientri gratis nei tornei che si collega proprio a questo discorso del bancomat che ti dicevo prima cioè quando iniziamo a smettere di essere il bancomat per i nostri avversari iniziamo a essere noi a trattare loro come bancomat iniziamo a entrare in quella dimensione del gioco dove possiamo ridurre la varianza dove possiamo aumentare il controllo sui nostri risultati e in questa lezione andremo a vedere degli aspetti tecnici e pratici molto importanti ma un ragionamento su cui porterò i corsisti è la risposta alla domanda cosa posso fare a cosa posso ambire se sono un appassionato che non riesce ad avere una quantità elevatissima di gioco cioè fino a che punto sono costretto da questa benedetta varianza e fino a che punto posso incidere in questa lezione finalmente risponderemo a questa domanda con una serie di livelli di ragionamenti che non vedo l'ora di condividere con te sarà venerdì 12 aprile e sarà la lezione conclusiva del programma di Chips Compass ma già da ora ci sono dei materiali presenti disponibili nel gruppo Facebook dove ci sono già tutti i primi corsisti quindi se vuoi unirti clicca subito sul bottone dove stai vedendo questo annuncio acquista Chips Compass e quindi prendi il tuo biglietto ti aspettiamo inizi a lavorare assieme a noi su quello che è l'aperitivo al corso vero e proprio e prenditi queste due settimane io dalla mia sto cercando di darti tutto quello che mi sembra importante è facendo in modo che sia fruibile che lo puoi utilizzare che lo puoi prendere in queste settimane senza essere sovraccarico non ti sto chiedendo di stare 50 ore a seguire un corso prenderti una cinquantina di minuti un'oretta al giorno per otto giorni in due settimane se non riesci a fare in diretta ci sono le registrazioni e la promessa è che alla fine di questo percorso avrai un livello di chiarezza rispetto a cosa oggi serve per stare dentro i tornei di poker e come funzionare meglio con il tuo gioco che adesso non hai che ti porterai dietro probabilmente per il resto della tua vita quindi questo è Chips Compass iniziamo il 2 aprile e ti aspetto dentro il corso ciao da Mario di coachingmtt.com